Primo per una notte, il Diavolo vuole tornare a guardare almeno per 24 ore, tutti dall'alto. Bisognerà però battere questa sera alle 17 al Gaetano Bonolis, l'ostico Sant'Arcangelo, reduce da due vittorie consecutive. La squadra di Vincenzo Vivarini parte con il favore dei pronostici, ma pensare di poter avere vita facile con la formazione romagnola sarebbe un errore imperdonabile. La Sant'Arcangelo è una buona squadra perché ha dei giocatori importanti, se guardiamo davanti con Guidone e Berardino, Berardino l'ho visto giocare domenica scorsa, è entrato e ha spaccato proprio la partita, quindi è da prendere con le mola questa partita, bisogna dare tutto quello che abbiamo, noi in questo momento qua la massima concentrazione che dobbiamo avere e proprio di affrontare ogni partita con quel piglio e quella grande cattiveria che ci serve per fare risultato contro queste squadre. Sulla carta i biancorossi hanno però qualcosa in più e soprattutto quella voglia matta di brindare all'ennesima vittoria e portare a 15 risultati utili consecutivi. Per la sfida odierna Vivarini non ha grossi dubbi, il 3-5-2 vedrà come protagonisti tonti in porta, Caidi, Speranza e Perrotta nella difesa 3, Brugaletta al posto dello squalificato Scipioni, Di Matteo, Amadio, Cenciarelli e Masurlo andranno a comporre la linea mediana con Lapadula e Donnarumma in avanti. Non convocato Bucchi alle prese con l'influenza nel Sant'Arcangelo, occhio all'ex Berardino e a Guidone qualche stagione fa a Chieti. Dirigerà Mastro Donato di Molfetta. Nel match d'andata il Teramo si impose per 2-1 con gol di Lapadula e Bucchi. Dopo due stop consecutivi per Neve torna in campo anche l'Aquila. Gli ragazzi di Zavettieri, sempre alle 17 di questa sera, saranno di scena a San Marino. D'obbligo i tre punti contro la Cenerentola del torneo che però due settimane fa ha reso la vita difficile alla capolista Ascoli. All'andata al fattore il match con i sanmarinesi finì in parità con l'esonero di Pagliari. Questa volta la situazione è diversa ma bisognerà conquistare la vittoria senza se e senza ma. Nell'undici da mandare in campo il tecnico aquilano ha qualche dubbio. Diuric è recuperato ma non verrà rischiato considerando il derby col Teramo di domenica prossima. La stessa cosa sarà probabilmente per Perpetuini. Nel 3-4-1-2 davanti al portiere Zandrini agiranno Pomante, Zaccagnini e Carini con Pedrelli, Corapi del Pinto e Gotti a centrocampo e Pacilli trequartista in appoggio alla coppia d'attacco Pozzebon-Virdis. Dirigerà Rossi di Rovigo.